stiamo vivendo un tempo difficile che nelle ultime settimane ha stravolto le nostre abitudini il nostro stile di vita ci sono persone che abbiamo perso ci sono persone che sono ammalate che stanno soffrendo e ci sono persone che si stanno battendo quotidianamente per fermare tutto questo per arrestare la diffusione del coronavirus per aiutare chi si trova in condizioni di difficoltà possiamo aiutarli anche noi possiamo partecipare e trasformare questo grande sforzo anche nel nostro sforzo dare il nostro contributo facciamo una donazione anche piccola alla raccolta di fondi avviata dalla fondazione solidale e dalla fondazione cassa di risparmio di alessandria il ricavato servirà per acquistare dispositivi di protezione individuale mascherine camici strumenti e apparecchiature facciamolo insieme grazie